E' una giornata di domenica, tutto sempre tranquillo, ma ci sarà la contesa. Ehi, Aezio? Questa pappa? Questa pappa di chi è? Di Ettore? O gliela diamo a Dezio? A Dezio? Tieni. La pappa di Ettore? O di Ezio? Mila di quattro. Dammi la zamba. Zamba? Di Ettore? O di Ezio? Vediamo, è Torino questa pappa. Di chi è? Di chi è questa pappa? O di Ezio? Vieni qua, Ezio. Ezio, gioia mia. Gioia mia. Vieni qua, la pappa di Ettore. Tutta la pappa. Accucciato. Leveti. Piano. Piano. Piano, piano. Vieni qua. Dano. Dano. Pappa di Ezio. Piano. 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 Grazie.